Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la giornata dei volontari della protezione civile in corso alla Fiera di Udine, un momento di festa e di riflessione. Per una delle colonne della Società Civile del Friuli Venezia Giulia c'è per noi Davide Vicedomini al quale diamo subito la linea. Buongiorno Alexis, buongiorno a tutti i telespettatori. Alle mie spalle potete vedere la Maria di Giacche Gialle e Blu, il simbolo della protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Oltre mille volontari oggi alla Fiera di Udine dove si celebra la ventiduesima giornata del volontariato. Una giornata di festa, di riflessione, di celebrazione. Perché mai come in questi tempi la protezione civile del Friuli Venezia Giulia è stata importante per tutto il sistema nazionale. Basta pensare all'emergenza Covid oppure anche all'emergenza dettata dalla guerra in Ucraina con allestimento dei campi profughi. E poi non ultimo, quello che è accaduto anche quest'anno, quest'estate, con l'emergenza incendi e quello che è accaduto sul Carso con gli incendi. E a questo proposito la giornata è stata aperta anche con il ricordo della dolorosa scomparsa di Elena Loduca, la coordinatrice comunale di Prepotto, travolta da un albero durante l'incendio nelle valli. E poi c'è stato il messaggio del ministro della protezione civile Musumeci che ha ricordato l'eccellenza, l'orgoglio di questa terra, erede di un sistema, quello della protezione civile, creato dal commissario Zamberletti proprio nel 1976. Proprio da quell'eredità, secondo il vicepresidente Riccardi, bisogna trarre spunto per anche creare un nuovo modello per le opere previste per il PNRR. A proposito, 50 milioni verranno annunciati proprio ai primi interventi, il pacchetto lunedì e dalle parole Riccardi anche è risuonata dalla platea la necessità di creare un nuovo modello di autonomia in cui i presidenti delle regioni si facciano i commissari proprio per le opere di prevenzione. Allora sentiamo le parole di Riccardi. Festeggiamo un straordinario esercito di volontari senza i quali non sarebbe stato possibile superare questa legislatura piena di emergenze, piena di incertezza, piena di difficoltà. E quindi siamo qua a tributargli la nostra gratitudine, tutti. Ecco, io penso che da questa giornata possa uscire un altro segnale importante. Prima di tutto che senza incertezze il sistema di protezione civile deve essere saldamente ancorato al modello regionale. Abbiamo fatto un conto, in questa regione dal 2003 si è investito in opere di protezione del territorio un miliardo di euro, realizzando circa 4.500 cantieri. Almeno la metà di questi sono stati realizzati con interventi di gestione commissariale. Ecco, io penso che il governo, giustamente davanti alla preoccupazione di rivedere le condizioni del PNRR, spinga il governo a nominare i presidenti delle regioni commissarie straordinarie, con dei poteri derogatori che consentano a tutte le regioni italiane di poter realizzare quelle opere che giustamente l'Europa ci chiede di realizzare in tempi molto brevi. Io mi auguro che da questa regione parta un segnale forte. Nessuno strappo con la Lega. Il presidente Fedriga, precisa quanto pubblicato oggi sui giornali, conferma che stava lavorando. Ha una lista con il suo nome e anticipa che per le elezioni di primavera in regione ci si sta orientando a mantenere i seggi aperti due giorni, la domenica e il lunedì mattina. I titoli non rappresentano per nulla quanto ho detto. Non c'è nessuno strappo. Molti governatori hanno fatto, come ho scritto in intervista, è stato scritto molto bene dal giornalista. Molti governatori hanno fatto le loro liste civiche durante le elezioni amministrative. Penso al Veneto con Luca Zaia, penso a Fontani in Lombardia, penso a Toti in Liguria. Quindi io sono della Lega, mi mango della Lega e sono in candidato presidente non di una lista ma di una coalizione. Lo strappo non esiste. L'ho detto chiaramente nell'intervista, ho detto anche che la Lega deve continuare a lavorare unita. Fedriga ha anche precisato le prossime tappe della lista che presenterà alle regionali con il suo nome. Mi prenderò ancora qualche settimana prima di fare la lista. Saranno decisi da me in persona le varie liste. Spero di avere una rappresentanza del tuo territorio, ovviamente di tutta un'area che guarda al centro-destra. Ma la lista vuole essere qualcosa di integrativo alla coalizione, non di alternativo a forze politiche della coalizione. E quindi magari ci sono degli elettori che sulle elezioni nazionali si rispecchiano in altre forze politiche, non quelle di centro-destra, ma hanno apprezzato la nostra azione amministrativa. La lista va in quella direzione. Elezione a maggio? Uno o due giorni? L'elezione deve ancora decidere. Abbiamo una finestra di tempo che è tra aprile e maggio. Stiamo ipotizzando di fare il giorno e mezzo di voto, così da uniformarci a livello nazionale, ma soprattutto dare più opportunità alle persone di partecipare alla tornata elettorale. Penso che più persone vadano al voto, più un successo democratico. Quindi se possiamo dare maggiore possibilità per parteciparvi, la vedo positivamente. Alla fiera di Udine c'era anche il ministro Luca Ciriani che ha risposto alle domande dei giornalisti sulle riammissioni dei migranti in Slovenia. Una soluzione, ha detto, va trovata. Quella della riammissione è una regola che vigeva già. Con il ministro Piantedosi ne stiamo discutendo. Spero che il ministro possa venire quanto prima anche a Trieste a parlare direttamente con il sindaco, con il presidente della regione, con il prefetto. Sicuramente però una risposta va data. Quella che io, ai tempi, quando ero all'opposizione, chiamavo la Lampedusa del Nord, è un problema che non può essere sottovalutato. Non si può dire che tanto passano e vanno altrove, perché abbiamo visto che in realtà non vanno altrove. Il problema comincia ad essere difficile a sostenere per le città, per Gorizia, per Trieste, per Mufalcone, per tutta l'area di confine. E quindi una soluzione va data e anche quella della riammissione è una delle soluzioni di cui stiamo pensando. Siamo alla cronaca, esce dal ristorante ed è travolto da un'auto che lo sbalza per quasi 10 metri prima di farlo cadere a terra. È successo ieri sera ad Attimi, si invia a Fedis, intorno alle 21. Il pedone è un 65enne residente a Udine, è stato soccorso e trasportato a Udine in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. L'auto era condotta da un uomo di 45 anni di Forgaria. È fuori pericolo, ma restano gravi le condizioni di Drago Stankinovic, di 60 anni. L'uomo ha coltellato ieri sera nella sua abitazione in via Battera a Trieste. A colpirlo, secondo le sue stesse dichiarazioni, sarebbe stata la moglie, Susanna Stankinovic, di 52 anni, che ora è in carcere e rischia l'accusa di tentativo di omicidio. L'uomo ha detto di essere stato accoltellato mentre dormiva. Dopo essere stato ferito è uscito di casa sanguinante ed è riuscito a raggiungere la strada dove un vicino l'ha visto e ha chiamato la polizia. Sia il ferito sia la moglie sono cittadini serbi. Il Movimento 5 Stelle, siamo la politica, ha presentato questa mattina i 10 punti del programma con il quale si presenterà le prossime elezioni regionali. In videocollegamento anche Giuseppe Conte, presente l'ex ministro Stefano Patuanelli. Rilancio della sanità pubblica, con più pubblico, prevenzione e meno interferenza dei partiti, non ritorno delle province elettive, riqualificazione delle infrastrutture esistenti e contra le tale opere inutili, sviluppo economico, sostenibile, azzeramento dell'IRAP, a transizione energetica e obiettivo 100% rinnovabili. E ancora contrasto a cambiamenti climatici, inquinamento e consumo di suolo, valorizzazione della montagna, lotta all'abbandono scolastico, il disagio giovanile, rilancio dell'occupazione e interventi per il sociale e la famiglia. Sono i 10 macro temi che il Movimento 5 Stelle mette al centro della propria azione politica in vista delle elezioni regionali in Friuli-Venza Giulia, in programma nel 2023. A presentarli oggi a Trieste il coordinatore del Movimento 5 Stelle, in regione Luca Suttel, il senatore Stefano Patuanelli e i consiglieri regionali Mauro Capozzella, l'area Dalzovo, Cristian Sergo e Andrea Usai. Presentiamo le nostre idee per il Friuli-Venza Giulia che cogliamo, hanno spiegato i rappresentati del Movimento 5 Stelle e chiediamo alle forze progressiste che intendono portare avanti questi punti di sedersi attorno al tavolo. Se c'è la volontà di costruire un percorso condiviso, questo non può concentrarsi su idee e proposte comuni. Si attendono per lunedì le decisioni della magistratura belga sul Friulano, Luca Visentini, fermato ieri a Bruxelles nell'ambito di un'inchiesta su ipotesi di corruzione da parte del Qatar. Un fulmine a ciel sereno che segue di pochi giorni l'elezione a segretario generale della International Trade Union Confederation. Luca Visentini, Friulano, 54 anni, è stato fermato dalla polizia di Bruxelles per sospetta corruzione. Visentini, insieme all'ex europarlamentare Antonio Panzeri e altri due uomini, sarebbe coinvolto in una serie di operazioni dell'Emirato del Qatar per influenzare le decisioni in materia economica e politica del Parlamento europeo. A dare per prima una notizia è stato il quotidiano Le Suar con la conferma del Tribunale federale belga. I quattro fermati sono ora a disposizione dei giudici che potrebbero decidere per l'arresto. Visentini, che ha mosso i primi passi da sindacalista nella Will del Friulio Venezia Giulia, nel 2011 era stato eletto segretario confederale della European Trade Union Confederation, la confederazione dei sindacati europei. Dopo tre mandati è diventato, a novembre, presidente della ITUC, la confederazione mondiale. La polizia ha effettuato 14 perquisizioni in diverse abitazioni e strutture, trovando e sequestrando 500 mila euro a casa dell'ex parlamentare Panzeri. E veniamo alla diffusione dell'influenza che continua a crescere in regione e preoccupa sempre più i medici di medicina generale. È arrivata al quarto livello, su una scala di 5, l'influenza in Friuli Venezia Giulia. A dirlo è la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale sulla base dei dati rilevati nella settimana che va dal 28 novembre al 5 dicembre. La diffusione del virus in regione è definita alta, con un tasso inferiore a 17,36 su 1000 assistiti, nettamente più basso alla media nazionale, ferma a 16 casi su 1000 assistiti. I dati, dice Fernando Agrusti, segretario regionale della Federazione, preoccupano i medici di base già alle prese con Covid e carenza di medici sul territorio. È necessario, conclude, che i soggetti a rischio si vaccinino al più presto e che si riscopra il valore delle mascherine e dell'igiene delle mani. Raccolta di indumenti e generi di prima necessità per i più bisognosi in varie città della regione, da Udine a Trieste a Gorizia. Siamo andati alla Caritas di Udine. Scarpe, giubbotti, coperte. È parte del materiale da destinare ai più bisognosi, che verrà raccolto tra oggi e domani alla Caritas di via Marangoni a Udine. Richiesti anche asciugamani, felpe e indumenti intimi. Noi abbiamo indetto per oggi pomeriggio dalle 14 alle 16.30 e domani mattina dalle 9 alle 12 una raccolta straordinaria di abbigliamento soprattutto da uomo. Quindi ci servono giacconi da uomo, pantaloni, felpe. Adesso comincia a fare molto freddo, quindi cappelli, sciarpe, guanti, zainetti. Abbiamo bisogno tantissimo di scarpe da ginnastica. Io avverto sempre tutto, mi raccomando, come metterebbero i vostri figli. La crescita dell'inflazione dei tassi di interesse costerà cara alle imprese del Friuli Venezia Giulia, soprattutto a quelle della provincia di Udine. Costerà 346 milioni di euro in due anni l'aumento dei tassi di interesse alle imprese del Friuli Venezia Giulia. La stima è della CGEA, che ha ipotizzato un aumento medio dei tassi del 2% tra il 2023 e il 2022 sui debiti delle imprese della nostra regione, che al 30 settembre scorso ammontavano a 17,3 miliardi di euro. A livello territoriale, Udine sarà la provincia più penalizzata della nostra regione, con un aggravio di 153,5 milioni di euro su un totale di 7,6 miliardi di impieghi bancari. Seguono le province di Trieste, con costi che aumenteranno di 97,9 milioni di euro, Pordenone 71,6 milioni e Gorizia 22,7 milioni. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.